Un commento rispetto ai dati di oggi e rispetto soprattutto ai dati aggiornati che l'azienda sanitaria ci ha dato e poi dirà sul confronto tra coloro che oggi sono risultati positivi e non hanno avuto nessun tipo di vaccinazione e soprattutto coloro che sono nei reparti covid sia quelli ordinari che quelli di terapia intensiva e non hanno avuto nessuna vaccinazione oppure hanno avuto una vaccinazione parziale rispetto alle regole che conosciamo oltre i cinque mesi o prima dei cinque mesi. Quindi se oggi noi facciamo dati matematici e possiamo anche dirci che la matematica è un caso, benissimo, facciamo dati matematici, ci rivolgiamo ai Trentini, vaccinati e non vaccinati e possiamo raccontarci che la matematica è un caso. Ma credo che le amministrazioni pubbliche abbiano un po' l'obbligo di dire le casualità che ci sono oggi all'interno degli ospedali e Trentini perché queste casualità, che non sono casualità perché capite benissimo che la mia è una provocazione, sono quelle che oggi stanno bloccando gli ospedali, sono quelle che non permettono le normali cure per tutte le altre necessità sanitarie che i Trentini hanno e sono quelle che stanno mettendo in ginocchio il sistema sanitario in Trentino, ma non solo perché questo è un tema nazionale. E siccome qualcuno ci viene a dire, ma cosa ci venite a dire bugie che l'altra volta eravamo arrivati a 80 in terapia intensiva ed oggi siamo solo a 23 perché questo è un po' diciamo ciò che leggiamo sui social e quant'altro. Se sì è ben vero che eravamo a 80 l'altra volta, però avevamo sospeso tutte le altre attività sanitarie, la gran parte dei reparti fondamentalmente non funzionava e tutto era sul Covid. Oggi fortunatamente, con i 23 che abbiamo oggi in terapia intensiva e i 119 che abbiamo il totale dei ricoverati, riusciamo pur con qualche difficoltà perché stiamo chiudendo qualche reparto a fare anche altre operazioni. Non credo che chi oggi vuole confrontare i dati del 2020 con quelli di oggi dicendo tanto erano di più quelli in terapia intensiva e quindi adesso ci vengono a dire bugie perché questo è quello che si narra, possano capire che la situazione era diversa nel 2020 rispetto ad oggi anche nella capacità del sistema sanitario di reggere perché le difficoltà che ha il sistema sanitario sono chiare e sono note. E quindi le difficoltà di oggi sono altre rispetto a quelle di un anno e mezzo fa e che quindi se oggi arrivare a 80 in terapia intensiva sarebbe veramente una situazione non gestibile. Mentre lo era, un anno e mezzo fa sì lo era perché era la prima volta e perché avevamo fermato tutto sostanzialmente. E allora diciamo un po' i numeri per quello che sono perché credo che alla fine il Trentino medio sia una persona saggia, una persona civile, una persona responsabile e una persona non egoista. Ok? E che quindi fa le scelte non solo sulla base di ciò che fra virgolette gli conviene ma anche sulla base di ciò che conviene al sistema, alla comunità trentina. Poi i dati di oggi dicono che su 392 contagi sono tanti, ok? E sono tanti. Il 55%, cioè 217, riguardano persone che non si sono vaccinate. Di questi 217, ben 72 sono ultra quarantenni, coloro che pensano di farcela comunque, definiamoli così, coloro che pensano di scamparla comunque, ok? Sono questi quelli più rischiosi perché sono poi quelli che ci troviamo all'ospedale dopo perché fossero solo contagiati, vabbè, insomma, se ne restano a casa e bene per loro, fortunati tutti. Ma poi questi qua sono quelli che rischiano di contagiarsi e di andare a intasarci gli ospedali. Quindi 72 sono a rischio sostanzialmente, sono persone che probabilmente valutano il rischio a modo loro, ecco, ok? Ma se valutassero solo a modo loro va anche bene, a scelta loro, però poi quando ci intasano gli ospedali non va più bene perché diventa difficile la scelta nei confronti della collettività. Allora sono 72 quelli ultra quarantenni che non sono stati vaccinati. Il 55% dei contagiati di oggi sono persone non vaccinate. Altri 76 contagiati sono persone che sono contagiate, che erano state vaccinate ma che non si sono vaccinate oltre il quinto mese. Perché il quinto mese sappiamo essere quello in cui si è scoperto che il covid, diciamo, contagia ancora dopo i cinque mesi della vaccinazione. Il 25%, altri 99, sono coloro che sono stati oggi risultati contagiati e che hanno avuto un ciclo vaccinale completo. Quindi il 25%, uno su quattro, ok? Uno su quattro sono quelli vaccinati. Tre su quattro, e quindi i tre quarti, sono persone che non hanno regolare vaccinazione. Ebbene, oltre la metà, il 55%, sono persone che non si sono vaccinate. Questa è la matematica. Sapendo anche che quei 217 che oggi sono contagiati e non si sono vaccinati, si riferiscono a 70.000 abitanti, ok? 217 su 70.000 abitanti. I 70.000 abitanti sono i trentini che non si sono vaccinati. Quindi i 217 li peschiamo da un serbatoio, diciamo così, di non vaccinati di 70.000, ok? I 99 più 76, che sono 175, oggi positivi, alcuni che hanno fatto la vaccinazione regolare, altri che non hanno fatto la vaccinazione regolare, li peschiamo da un serbatoio di 450.000 persone, ok? Perché sono 450.000, i trentini in generale, che o hanno fatto la vaccinazione completa, o si sono, diciamo, vaccinati, anzi, togliendo pure magari i ragazzi sotto i 12 anni, ecco questo è un dato che va tolto, ok? Però l'incidenza del contagio è molto maggiore, è molto maggiore. Se andiamo a fare i numeri sui ricoverati, i dati di oggi dicono che abbiamo 119 ricoverati. Di questi 62 non hanno avuto un ciclo vaccinale, comunque non si sono vaccinati, quindi il 52, il 52%, 32, il 27%, hanno avuto una vaccinazione ma non hanno fatto la vaccinazione oltre il quinto mese, quindi una vaccinazione irregolare, definiamola così, e il 25, il 20%, il 21%, sono coloro che hanno avuto una vaccinazione regolare. Quindi 1 su 4, ancora, sono quelli che si sono vaccinati e sono finiti nei reparti ospedalieri. 3 su 4 sono quelli che non hanno una vaccinazione regolare e ben oltre la metà sono quelli che non si sono mai vaccinati. Se noi togliessimo a questi 119 il valore di 62, cioè coloro che non si sono mai vaccinati, se ci fossero vaccinati, quel 62 non ci sarebbe all'interno dei nostri ospedali. Ecco, oggi avremmo una sessantina di ricoverati e saremo in zona bianca, ok? E non rischieremo l'arancione, ok? Questo lo dobbiamo dire. che chi non si vaccina rischia di mandare il trentino, è già arrivato in zona gialla perché non saremmo andati in zona gialla, e se si rischia l'arancione è dovuto a coloro che non si sono vaccinati. Quindi questo è un tema che le cifre, la matematica rende molto chiaro. Andiamo al tema più divisivo, cioè più pesante, che è quello delle terapie intensive, perché per mettere in crisi gli ospedali sono soprattutto le ospedalizzazioni e le terapie intensive. Quindi le terapie intensive, oggi ne abbiamo 23 in terapia intensiva, i non vaccinati su 23, coloro che non hanno mai avuto una vaccinazione, sono 15, il 65%. 4 sono quelli che hanno avuto una vaccinazione ma è stata irregolare, diciamo, non si sono vaccinati dopo il quinto mese, e altri 4 sono coloro che hanno una vaccinazione regolare. Quindi diciamo che l'80%, oltre l'80% è dato da chi non ha una vaccinazione regolare nei reparti di terapia intensiva, il 65% è dato da coloro che non si sono mai vaccinati e il 17% è dato da persone che hanno avuto una vaccinazione completa. Ma questo 17% va sempre a pesare sul monte di persone che si sono vaccinate, cioè molto alto in termini numerici, mentre il 65% di coloro che non sono vaccinati pescano sempre tra quei 70.000 che dicevamo prima. Se oggi non avessimo i 15 in terapia intensiva non vaccinati, saremmo una decina di terapie intensive, circa, forse anche meno, e saremmo in zona bianca. Quindi questo è il dato. Quindi i trentini devono sapere bene, anche coloro che hanno deciso di non vaccinarsi non perché hanno provato a farli scienziati e si sono, diciamo, laureati in medicina negli ultimi mesi, ok, ma anche coloro che semplicemente non hanno voglia, non hanno tempo, sono pigri, ci sono, perché ci sono anche quelli, ok, e noi invitiamo a farli ragionare questi, perché poi le restrizioni che riguardano loro è per scelta loro sostanzialmente, è per scelta di questa parte minimale dei trentini che ha deciso di non vaccinarsi, se il trentino è già diventato zona gialla o diventerà zona arancione o peggio, se fosse peggio nei mesi a venire, cosa che ovviamente non auspichiamo. Quindi noi questi numeri li dobbiamo dire, li dobbiamo dire così come sono. È matematica dire che se noi togliamo i 15 non vaccinati in terapia intensiva, oggi saremmo in zona bianca. È matematica, non è discriminazione, fra virgolette, o fare male informazione, è semplice matematica. Se noi togliessimo i 62 totali nelle ospedalizzazioni non vaccinati che ci sono negli ospedali, oggi saremmo in zona bianca, perché il criterio della zona bianca dice che tu rimani in zona bianca finché hai 80 ospedalizzazioni, sotto le 80 ospedalizzazioni. Se noi 119 di oggi togliamo i 62 non vaccinati che sono nelle ospedalizzazioni, saremmo tranquillamente a una sessantina di ospedalizzati che ci permetterebbe di essere in zona bianca. Quindi questo è il messaggio che vogliamo dare, numeri alla mano. La matematica è matematica, uno può anche pensare che sia una casualità che arriviamo fino qua, ma ormai sono tre mesi che è così il tema. E quindi l'invito ai Trentini a riflettere su questo tema lo dobbiamo fare nell'interesse pubblico. Noi abbiamo sempre trattato questo tema non con la volontà di arrivare o di essere favorevoli ad un obbligo vaccinale. L'abbiamo sempre affrontato con molta, devo dire, anche laicità su questo. Però i numeri poi dicono come stanno le cose e quindi i Trentini vanno informati per come stanno le cose. Allora con questi dati da lunedì siamo in arancione, spieghiamo bene i temi, Presidente. No, questo no perché noi abbiamo due parametri, i parametri per innanzitutto di andare in giallo e in arancione non lo decide la provincia di Trento. Lo decide il Ministero secondo criteri stabiliti e simili e uguali per tutte le regioni. I criteri sono tre. Il primo l'incidenza, cioè il livello del contagio e su questo siamo ben oltre il livello, siamo già in zona arancione per questo criterio. Secondo criterio, criterio delle terapie intensive che oggi sono 23 e che superano il limite per andare in arancione. Questo quindi sì ci porterebbe in arancione. Poi ci deve essere il terzo criterio e devono esserci tutti e tre insieme questi criteri, non uno solo, tutti e tre insieme, che è il livello delle ospedalizzazioni tolte le terapie intensive. Questo livello oggi è a 97, perché sono 120 gli ospedalizzati, di cui 23 in reanimazione, quindi dobbiamo togliere i 23 e ragioniamo su 97. Il livello oltre il quale si va in zona arancione è sui 150 circa, quindi abbiamo uno spazio. Però ci metti un attimo a colmare lo spazio, perché oggi fortunatamente abbiamo cinque nuovi ricoveri, ma settimana scorsa, quando siamo andati da zona bianca a zona gialla, abbiamo avuto 4-5 giorni in cui erano 12 più 12 al giorno. Quindi dipende dal livello dei ricoveri. Se il livello dei ricoveri rimane su 5-10 al giorno, e poi ci sono le dimissioni, che sono circa 5-8 al giorno, allora rimani in questa situazione. Se il livello dell'ospedalizzazione invece schizza 15 al giorno, è allora nel giro di una settimana il rischio c'è. Ci sentiamo di dire che, stante questa situazione, noi non prevediamo lunedì prossimo e nemmeno quello del primo lunedì di gennaio prossimo, situazioni di rischio. Quello che accadrà dopo l'epifania, questo non lo sappiamo. Quindi il quadro è questo. Io, dopodiché, mi vorrei anche un po' scusare con i trentini che in questi giorni hanno a che fare con le prenotazioni per i vaccini, il CUP, le prenotazioni per le visite ordinarie, e può accadere che o non ricevono risposte, oppure ricevono anche per le vaccinazioni la possibilità di una vaccinazione a 15 giorni. Questo perché? Perché tutti gli altri posti sono occupati, vuol dire che non abbiamo personale in questa fase, perché comunque il personale sanitario è quello che è, signori, non è che lo possiamo inventare, lo dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto in questi ultimi mesi. Mi sento anche di dirlo, ci sono anche le vacanze, c'è il periodo natalizio, e bene o male, ognuno dovrà viverlo anche il più possibile in una situazione di normalità. Non è facile organizzare slot in questa fase, perché quelli che ci sono sono già pieni, e quindi può succedere che ti arriva una prenotazione dopo 15 giorni. Però è frutto di un sistema che sta anche facendo fatica, ce lo dobbiamo dire, perché il personale sanitario, come abbiamo detto ad oggi, è fortemente in difficoltà dopo questi mesi pesanti, perché oltre all'ordinario deve fare le vaccinazioni, i tamponi, il contact tracing, e tutto sempre con quello che va a gravare su quel personale lì. Quindi chiedo un po' di pazienza su questo. Noi abbiamo fatto giornate vaccinali ad hoc, le faremo come è stato annunciato anche sui ragazzi, sui giovani, quindi se non trovate posto su un determinato giorno all'interno delle prenotazioni online, vedrete che arriverà il momento in cui annunceremo che una domenica, un sabato, faremo la vaccinazione aperta per tutti i ragazzi, i bambini. Va anche detto che comunque in alcuni centri vaccinali, e chiedo adesso al dottor Ferro, comunque se ti presenti anche senza prenotazione, il vaccino ti viene fatto.